Ciao a tutti amici di Vanilla, vi saluto da un luogo, una zona dove ci sono alcuni bunker ed edifici, i denti di drago, che si trovano nella pinetta di Punta Marina. Un luogo che ormai in tanti avete imparato a conoscere. Per parlare di Ratline, la via dei topi, è già il nome mutuato dal gergo marinaresco è emblematico. La Ratline, che in italiano si traduce con Grisella, è una corda che arriva in cima ai pennoni di una nave, è l'ultima via di scampo dei topi in caso di naufragio, prima di essere inghiottiti dal mare. Ma ci sono topi e topi e capita anche che qualche ratto più fortunato riesca a scamparla. Nell'immediato dopoguerra, e per qualche anno a venire, migliaia di feroci ratti riescono a scappare, ma non da una nave che affonda, da una Germania sconfitta e devastata, attraverso un diversificato sistema di vie di fuga chiamato appunto Ratline. Sono gerarchi e funzionari nazisti, ma anche collaborazionisti dei paesi occupanti, e Ustascia Croati, nazionalisti cattolici di estrema destra, che, grazie a insospettabili complicità, riescono a raggiungere un porto sicuro, in Argentina principalmente, dove sono accolti a braccia aperte dal presidente Juan Perón, e poi in Paraguay, Brasile, Cile, Bolivia e anche negli Stati Uniti. Le vie di fuga utilizzate sono due. Una parte dalla Germania per arrivare nella Spagna franchista, dove i fuggiaschi si imbarcano verso l'America, e l'altra, partendo sempre dalla Germania, arriva a Genova, dove viene sempre garantito un passaggio via nave. La Ratline ha anche un altro nome, se vogliamo ancora più inquietante, la Via dei Monasteri. Più inquietante perché spiega come la fuga di criminali di guerra sia stata agevolata e organizzata anche grazie a una presumibile connivenza del Vaticano, o almeno una parte di esso e con il beneplacido degli Stati Uniti, e sono a conoscenza della Ratline. Prima di continuare a parlare di questo argomento, decisamente spinoso, vorrei ringraziare tutti gli abbonati al canale. Grazie al vostro supporto riesco a pubblicare anche questo tipo di contenuto, appunto scomodo per gli inserzionisti, e quindi vorrei farvi sapere che siete una parte fondante del processo di realizzazione del video. Grazie ancora a tutti. Uno dei principali artefici della salvezza dei nazisti è il vescovo austriaco Alois Hudal, un sostenitore di Hitler della prima ora, mentre degli Ustasha si occupa un altro prelato, il croato Krunoslav Stepan Draganovic, molto vicino al dittatore criminale di guerra Ante Pavelic, che a Roma, dal 1943, è segretario dell'Istituto Croato di San Girolamo. Tutto ha inizio prima della fine della guerra, quando molti gerarchi nazisti e gli industriali tedeschi sono ormai consapevoli che tutto è perduto. Il 10 agosto del 1944 a Strasburgo avviene un incontro decisivo tra numerosi esponenti di primo piano del nazismo e noti quanto importanti industriali e banchieri tedeschi. I presidenti sono consapevoli che la guerra è ormai persa e cercano una strada per non rimetterci la pelle e nemmeno i capitali accumulati. I gerarchi acconsentono allo spostamento di ingentissime somme di denaro, che diversamente sarebbero state confiscate dai vincitori, verso paesi neutrali come Svizzera, Spagna, Argentina, Turchia. In cambio, gli industriali garantiscono supporto economico ai nazisti in fuga. È in sostanza la nascita di un'organizzazione che per molto tempo è sembrata solo un racconto di finzione, Odessa, acronimo in tedesco di Organizzazione degli Ex Membri delle SS, nel mentre siamo arrivati a un altro bunker. Un paio di mesi prima della fine della guerra è addirittura il potentissimo Heinrich Himmler, che poi, dopo la cattura morirà suicida, a incaricare un giovane ufficiale delle SS, Carlos Fuldrer, tedesco nato in Argentina, dell'organizzazione della fuga di quanti più nazisti possibile. E lui ci si mette di impegno, tanto che nel 1946 diventa il direttore del DAIE, Direzione Argentina d'Immigration Europea, che ha sede a Genova. Dal suo ufficio partono le liste dei nomi delle persone da accogliere, esaminate a Buenos Aires da un'organizzazione vicina al presidente Perón e all'episcopato, diretta, guarda caso, da un criminale di guerra belga, Pierre Daie. Dalla capitale argentina, quindi, partono i visti d'ingresso, corredati dalle fotografie dei richiedenti, con nomi ovviamente falsi. Nella rete di sostegno ai nazisti, per procurare documenti falsi, spiccano i nomi del presidente della Croce Rossa internazionale dell'epoca, il cardinale argentino Antonio Caggiano, forse del cardinale Siri, che è vescovo a Genova in quegli anni, ma soprattutto del vescovo Alois Hudal, il principale imputato di un processo che non è mai avvenuto. Hudal è ferocemente antibolcevico, fermamente convinto della necessità di frapporre un baluardo fra l'Unione Sovietica e l'Occidente. Hitler è proprio quello che ci vuole. Antisemita convinto, abbraccia le idee del Führer già nel 1933 e nel 1937 pubblica il libro I fondamenti del nazionalsocialismo, dove si mostra entusiasta del regime tedesco. A Roma, dove dirige la congregazione austro-tedesca di Santa Maria dell'Anima, dopo il 1938 viene in qualche modo messo da parte, ma intanto lui stringe amicizia con il capo dell'intelligenza tedesca, Walter Rauf, inventore dei camion camera gas, che poi sarà uno dei criminali fuggiti, grazie a lui, prima in Siria e poi in Cile. Non è secondario il fatto che Rauf venga protetto da tutti i governi che si succedono in Cile, da quelli di destra a quelli di sinistra, tanto che le richieste di estradizione arrivate da Israele, Germania Ovest e Unione Europea non saranno mai accolte e lui morirà a Santiago del Cile nel 1984, senza aver mai pagato per i suoi crimi. Oltre a Rauf scampano alla giustizia tra gli altri, Franz Stangel, comandante di Treblinka, Edward Rochman, responsabile del ghetto di Riga, Josef Mengele, il famigerato dottor morte, Gustav Wagner, sergente delle SS a Soribor, Alois Brunner, responsabile delle deportazioni da Francia e Slovacchia, Adolf Eichmann, l'architetto dell'Holocausto, famosissimo perché poi dopo fu catturato e processato giustiziato in Israele, Eric Pribbic, l'artefice dell'Ecidio delle Fosse Ardeatine, Klaus Barbi, soprannominato il Boia di Lione e Gerard Bone, responsabile del programma di eutanasia per i disabili. Udal è orgoglioso della sua opera, si stima che, grazie a lui personalmente, un migliaio di nazisti siano riusciti ad espatriare, è convinto di aver fatto la cosa giusta e quello che ci si sarebbe aspettato da un vero cristiano, perché non crediamo nell'occhio per occhio degli ebrei. Definisce la Ratline un'associazione benefica per le persone bisognose, per le persone senza colpa, che devono diventare capri espiatori per i fallimenti di un sistema malvagio. Eppure Udal non agisce certamente da solo. Il giornalista argentino Uki Goni, autore del libro Operazione Odessa, la fuga dei gerarchi nazisti verso l'Argentina di Perón, scrive «l'apertura dell'archivio postbellico della Croce Rossa ha finalmente messo la parola a fine all'annosa questione se i criminali nazisti furono o meno aiutati dalla Chiesa Cattolica nella loro fuga in Argentina». Il confronto incrociato tra le informazioni in esse contenute e i documenti conservati in altri archivi americani, argentini e svizzeri, permette di costruire un quadro completo del consapevole coinvolgimento della Chiesa Cattolica nell'opera di salvataggio dei criminali di guerra. Saltano fuori i nomi del già citato Cardinale Siri, ma anche del Cardinale Montini, futuro Papa Paolo VI, e di altri prelati che delineano un quadro inquietante degli anni postbellici. Da parte della Chiesa Cattolica, invece, la spiegazione è un'altra. Tutte quelle persone che chiedevano aiuto, magari accompagnate dalle famiglie, non potevano essere immediatamente riconosciute come criminali nazisti. Non si presentavano certo in divisa, ma con abiti modesti, gente povera in cerca di una vita migliore, che solo, per carità cristiana, è stata aiutata a ottenere documenti e visti per espatriare. Nessuna responsabilità, dunque, da parte di chi li aiutava nell'organizzato percorso di fuga dalla Germania all'Italia, dove ogni 50 chilometri c'era un centro di ricezione e dei conventi ospitali disposti a nasconderli anche per molto tempo. Sono comunque in molti, anche al di fuori della Chiesa, ad avere dei dubbi sulla reale esistenza dell'organizzazione odessa. Qualche storico, come il tedesco Heinz Schneppen, propende più per l'idea di una responsabilità di singoli individui, senza nessuna connivenza generalizzata del Vaticano. Insomma, il capro espiatorio è il vescovo Bruno Hudal, e gli altri sono tutti senza responsabilità, compresi gli Stati Uniti, che accolsero duemila nazisti con famiglie al seguito, pur di avere a disposizione scienziati utili al progresso del grande paese. Con buona pace di tutte le vittime della guerra e dell'olocausto. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio